Musica Bambino di 10 anni allontanatosi da Santa Maria di Licodia, Catania, ritrovato dai carabinieri a Palermo. I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, al termine di prolungate e ininterrotte indagini e ricerche coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catania e dal prefetto di Catania hanno rintracciato a Palermo, con il prezioso supporto dei colleghi della stazione di Palermo-Piazza Marina, il bambino di 10 anni di origine tunisina allontanandosi volontariamente da una comunità di Santa Maria di Licodia nella notte tra il 12 e il 13 marzo. I carabinieri lo hanno dunque portato nella nottata a Santa Maria di Licodia, dove è stato affidato al suo tutore. Acireale, Catania, arrestato nella notte dai carabinieri uno stalker 45enne. È stato arrestato dai carabinieri di Guardia Mangano un 45enne di Acireale, che sarebbe stato protagonista recentemente di innumerevoli comportamenti vessatori nei confronti dell'ex fidanzata, una 36enne del posto. La vittima aveva continuato a subire continui assalti e atteggiamenti persecutori da parte dell'ex compagno, che non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione. Lo scorso weekend, infatti, aveva tormentato la vittima ancora una volta con telefonate e un raid nella sua abitazione, desistendo dall'andare oltre solo grazie al decisivo intervento di una vicina di casa della donna, che minacciandolo di chiamare i carabinieri era riuscito a metterle in fuga. Catania, carabinieri e polizia locale, prosegue l'operazione di contrasto all'occupazione abusiva del suolo pubblico. I carabinieri della compagnia di Catania di Piazza Dante, unitamente ai colleghi del XII Reggimento Sicilia e al personale della polizia locale, hanno messo in atto un piano di controllo nell'area a cavallo tra la via Ruggero di Lauria, la cosiddetta Lungomare, e il quartiere di Picanello, volto a contrastare, oltre all'illegalità diffusa, anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di esercenti nel settore dello street food, con l'obiettivo, tra l'altro, di rendere maggiormente fruibile quella stessa area ai turisti e famiglie che la frequentano, in una cornice di decoro urbano. Sono state rilevate due infrazioni al codice della strada nei confronti di altrettanti paninari, rispettivamente di 27-69 anni, i quali, con la collocazione di sedie e tavolini destinate ai loro avventori, avevano invaso il suolo pubblico. Allora è stata quindi contestata la sanzione amministrativa di 173 euro. Oltre 110 milioni di persone sono chiamate alle urne in Russia dal 15 al 17 marzo per eleggere il presidente che guiderà il paese per i prossimi sei anni. Per la prima volta le urne saranno aperte per tre giorni, scontato l'esito del voto che con ogni probabilità vedrà vincitore per la terza volta consecutiva il capo del Cremlino, Vladimir Putin, già al potere da 24 anni, aperti seggi anche all'estero e nei territori occupati dell'Ucraina. L'attuale presidente non ha nessuno sfidante in grado di tenergli testa. Putin si prepara così ad essere riconfermato per un quinto mandato, con la possibilità che venga prolungato ulteriormente per altri sei anni fino al 2036, come prevede la Costituzione russa. Nel paese e non solo, il presidente russo è riuscito a mettere a tacere qualsiasi tipo di opposizione. Meno di un mese fa la morte sospetta del suo principale oppositore, Alexei Navalny. Solo mercoledì scorso, a due giorni dalle elezioni, l'aggressione a Vilnius in Lituania ai danni di Leonid Volkov, collaboratore di Navalny. Nei mesi scorsi la Commissione elettorale centrale russa ha escluso dalla corsa al Cremlino tutti i probabili oppositori. L'ultimo in ordine di tempo Boris Nadezhdin, il candidato apertamente contrario al proseguimento della guerra in Ucraina. Le autorità di Mosca espandono il loro potere nelle regioni ucraine occupate avviando le elezioni presidenziali in programma nel fine settimana in Russia. Funzionari russi hanno usato un approccio a bastone e carota per raccogliere le preferenze dei cittadini. I residenti delle città occupate hanno compilato i documenti elettorali direttamente nelle loro case, controllati dai commissari spesso accompagnati da persone armate. Nelle città è un modo di evitare la città di голосo, che in modo di trattare la città di ucraina, se si sono immagini di imparare una città di ucraine e progono, come informare le imparare i ucraine i organi. La parata è una. In l'ocupazione, il più importante è di vivere e protegere la vita e di vita. Le autorità ucraini hanno fatto sapere che per i cittadini che non sostengono Mosca e sono costretti a votare sotto la minaccia delle armi, non ci saranno conseguenze legali. Non escludo l'invio delle truppe francesi in Ucraina. La Russia non può e non deve vincere. È tornato a ribadire il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista alla televisione nazionale. Per Parigi la stessa sicurezza della Francia si gioca in Ucraina. Una vittoria della Russia ridurrebbe la credibilità dell'Europa a zero e la vita dei cittadini francesi ed europei non sarebbe più la stessa. I rapporti tra Cremlino ed Eliseo sono ai minimi storici. Non tutti gli alleati di Kiev la vedono allo stesso modo. L'Italia ha replicato attraverso il ministro per gli affari esteri Antonio Tajani che esclude la possibilità di inviare militari in Ucraina. Ma in particolare è salita l'attenzione con la Germania dopo il rifiuto categorico del cancelliere Olaf Scholz sull'invio dei missili a lungo raggio Taurus. Macron ha invitato gli alleati a non essere codardi, un commento che ha fatto infuriare Berlino già in disaccordo con le precedenti affermazioni di Macron. Almeno 20 persone sono state uccise e più di 150 ferite in un nuovo attacco avvenuto a Gaza contro civili che si trovavano in coda per ricevere aiuti umanitari. A spiegarlo è stato il ministero della salute di Hamas secondo il quale a sparare sarebbero state le truppe israeliane. Tel Aviv però nega la ricostruzione e fa sapere che i fatti sono attualmente oggetto di un'indagine. Intanto il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Mahmoud Abbas, ha nominato un nuovo primo ministro, Mahmoud Mustafa, uomo d'affari e suo stretto collaboratore. Quest'ultimo ha ora il compito di formare un nuovo governo, il cui potere è però limitato geograficamente alla sola Cisgiordania. Secondo alcuni si tratterebbe di un tentativo, sostenuto anche dagli Stati Uniti, di volgere lo sguardo al dopoguerra. Washington ha intanto imposto sanzioni contro tre coloni israeliani in Cisgiordania accusati di molestie e aggressioni nei confronti dei palestinesi. Il presidente Biden deve difendersi da una crescente ondata di malcontento per il sostegno politico e militare a Israele con la situazione umanitaria a Gaza, che è ormai devastante. Life, la mia storia nella storia, è il titolo della biografia di Papa Francesco, scritta a quattro mani con il giornalista Fabio Marchese Ragona, in uscita il 19 marzo. Nel libro il pontefice parla, tra le altre cose, del conclave che lo ha eletto, degli effetti dei suoi ricoveri ospedalieri sugli equilibri in Vaticano e sulle speculazioni generate dalle sue condizioni di salute. Nonostante non abbia mai pensato alle dimissioni, Francesco ammette che se dovesse farlo non si farebbe chiamare Papa Emerito, ma semplicemente Vescovo Emerito di Roma. Nell'era digitale, l'e-reputation è diventata vitale per gli atleti di alto livello in cerca di visibilità. Nonostante il suo immenso curriculum, Ange Kunzli deve regolarmente scambiare la forza dei pugni con il peso delle parole. Sui social network, il pugile trentenne racconta il suo percorso, obiettivo ottenere visibilità e vivere della propria passione. Il migliore dei migliori, se non ha il rischio, non sarà connesso. Il migliore dei migliori che mi ha fatto mettere sui reso è soprattutto il fatto che io vedo che c'erano molti di persone che hanno iniziato a mettere al sport, che non erano specialmente buoni in quello che fanno, ma che avevano enormemente notorietà e è grazie a questo che hanno potuto vivere, eccetera. Fondamentali per attirare media, sponsor e coinvolgere la propria comunità, i contenuti pubblicati online possono dare una spinta alla carriera. Con la loro immagine, gli atleti devono suscitare il fervore di internet, perché ormai il talento non basta più, il successo si misura anche con statistiche numeriche, come il numero di like e iscritti. Curare la propria immagine è fondamentale con l'avvicinarsi dei giochi olimpici e paralimpici di Parigi, soprattutto per gli atleti russi e bielorussi, autorizzati a partecipare sotto una bandiera neutrale, a condizione di non aver approvato la guerra in Ucraina. È una società di e-reputation, il cui nome è tenuto segreto a scrutare il loro passato digitale, alla ricerca di eventuali prove. Un caso specifico che, secondo diversi specialisti, non deve farci dimenticare i rischi dell'e-reputation. L'e-reputation n'est qu'une composante de la réputation è un miroir grossissante, ma anche un miroir déformante della realtà. On voit souvent chez gli sportivi questo fenomeno d'emballement sui sociali. Il y a anche un rischio psicologico per gli sportivi. A qualche anno dei giochi, 6 russi e 5 bielorussi sono per l'instant qualifiati in tant qu'athlete individuelle neutre, notamment en ciclismo, en lutte et en natation, e pour certains, leur neutralité est déjà contestée, mais le Comité Internationale Olympique assure que le contrôle de l'identité numerique fonctionne et que l'image de ces sportifs sera scrutée avant, pendant et après la compétition. Jade Levin, Euronews, Paris. 1.600.000 rifugiati vivono oggi in Uganda, il primo stato in Africa e il terzo al mondo per numero di profughi rispetto alla popolazione. La maggior parte di loro porviene da Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo, paesi confinanti martoriati da violenze e scontri. Sono soprattutto donne e bambini, fuggiti dopo assalti armati ai loro villaggi, in cui hanno perso mariti e genitori, che si avviano a piedi verso il confine. L'insediamento di Nakivale, che ospita 185.000 persone nel sud-ovest, dell'Uganda, riceve nuovi arrivi ogni settimana. L'Uganda ha una politica di porte aperte, unica in Africa. Le persone in arrivo vengono registrate e sistemate in insediamenti appositi, sostenuti dagli aiuti umanitari dei partner internazionali, che finanziano infrastrutture come scuole e ospedali, utilizzati poi sia dai rifugiati che dalla popolazione locale. Per chi proviene da regioni in guerra, il riconoscimento della protezione è immediato. Negli insediamenti ogni rifugiato ha diritto a un piccolo appezzamento da coltivare e a un sostegno in denaro o in cibo, mentre i minori non accompagnati sono affidati a famiglie di altri rifugiati. Ma i bisogni sono tanti e restano per gran parte insoddisfatti. Anachivali dilagano povertà e abbandono scolastico. Con soltanto tre chili di riso e mezzo chilo di fagioli forniti loro al mese, i rifugiati senza fonti di reddito fanno letteralmente la fame, con conseguenze gravi, soprattutto per i bambini. Intanto, l'assistenza umanitaria internazionale all'Uganda diminuisce. Nel 2018 c'erano a disposizione circa 170 dollari all'anno per ogni rifugiato. Oggi solo 85. L'Unione Europea nel 2024 ha stanziato 27 milioni e mezzo di euro. da un deficit di fondi. E credo che i quelli che sono più acuti devono ottenere più di euro. L'Uganda, che è una operazione umanitaria più stabilita, potrebbe soffrire un po' più, ma siamo confidati che potremo mantenere il livello di supporto. Il governo dell'Uganda chiede più fondi ai partner internazionali per proseguire nella sua politica aperta nei confronti dei rifugiati, che ora è messa a serio rischio dall'aumento degli arrivi 225 mila negli ultimi due anni e dà un alto tasso di natalità negli insediamenti. Vincenzo Genovese, Euronews, Entebbe. La SpaceX di Elon Musk ha lanciato giovedì dal Texas la sua nuova Starship. L'astronave senza equipaggio ha fatto progressi rispetto ai due test dello scorso anno. È riuscito infatti a staccarsi dal razzo e a volare nello spazio per circa un'ora prima di perdere i contatti al rientro nell'atmosfera dopo essersi probabilmente disintegrata. Il test è stato un successo per i vertici dell'azienda e per la NASA con cui SpaceX collabora per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille.